madre? si jean claude? sapevate che esistono dieci semplici regole per far crescere sano ed equilibrato un bambino? ah si? e sono regole che io applico? no manco una! come osi tu! disturbante incrocio tra sailor moon e ru paul! no perdono non intendation è stato un errore del t9 sono una buona madre dunque perfetterrima e tu sei un figlio felice felicerrimo se mamma a volte ti maltratta è perché ti vuole bene ma non si vuole bene maltrattando no